Pronti, partenza, via! La nevragia del trigemino è una rara patologia nevragica che colpisce prevalentemente le persone sopra i 40 anni. È caratterizzata da un dolore intenso e lancinante, definito a scarica elettrica, che compare in maniera improvvisa monolateralmente e che interessa selettivamente solo una delle tre branche del trigemino, per cui si localizza solo a livello oculare con fotofobia, a livello mascellare oppure a livello mandibolare, senza intaccare le altre branche. Ha una durata di circa 20-30 secondi, dopodiché scompare improvvisamente senza alcuna sequela. L'eziologia è ancora sconosciuta, ma è probabile che vi sia un'alterazione dei canali ionici che gestiscono gli impulsi nervosi del trigemino, provocando quindi delle scariche improvvise alla base della sintomatologia dolorosa. Non essendovi alterazioni anatomiche ben definibili, la diagnosi è spesso di esclusione, eliminando tutte le possibili cause di questo tipo di dolore, ad esempio carie dentali, ed eventualmente effettuando una diagnosi ex audiovantibus, ovvero basata sulla risposta alla terapia usando carbamazepina, un antiepilettico che agisce proprio sui canali ionici riducendo la loro attivazione patologica.